Protagonisti del Tempo presenta la rubrica di Tg Economia dedicata alle notizie di approfondimento divise per settore e collegata all'edizione flash di Tg Economia. Uno spazio ampio per approfondire le notizie legate alle imprese con doppio appuntamento settimanale in prima serata il martedì e il sabato alle 21.15. Copertura nazionale e internazionale, ben due canali sky, satellite, 15 canali digitale terrestre, diretta web e streaming dal portale protagonistideltempo.it. È una declinazione di Tg Economia edizione flash che ha raggiunto ben 3.800 fan su Facebook, sono collegate oltre 1.100 siti da Google e con 47 edizioni ha raggiunto circa 50.000 visualizzazioni su YouTube. Le edizioni di Tg Economia sono visibili sul portale protagonistideltempo.it accessibili anche dai tablet iPhone, iPad e nel prossimo servizio vi mostriamo il format di Tg Economia Focus. Benvenuti nello stand di Canon Italia, SMAO 2011. In questo reparto presentiamo le soluzioni documentali. Le soluzioni documentali che Canon presenta soprattutto basandosi come prodotto in trilevel della gamma, uno scanner molto piccolo, portatile, dotato di una velocità di 15 pagine al minuto in un'acquisizione fronte-retro, ha la caratteristica di essere alimentato dalla porta USB del computer, quindi non servono altre alimentazioni e è in grado di soddisfare esigenze del professionista in quanto eventualmente possono essere acquisiti direttamente quelli che sono contratti, quelli che sono ordini, direttamente presso il cliente e spediti immediatamente con il collegamento al laptop in quello che può essere il server o comunque l'ufficio documentale. Canon vanta una vasta gamma di scanner documentali, questo è la lentilevel, arriviamo a soddisfare esigenze anche più grandi da 20, 40 fino a 100 pagine al minuto. Canon porta a SMAO le soluzioni per lo small office, home office, per le piccole e medie imprese e per le aziende di grandi dimensioni. In quest'area dello stand viene ricreato il tipico ambiente operativo di un ufficio, governato dalla soluzione Uniflow, in grado di controllarne i costi e rendere sicuro il processo di stampa. L'utente per ritirare il proprio documento deve identificarsi presso il dispositivo, selezionare il proprio lavoro e inviarlo in stampa. In questa maniera le informazioni vengono conservate in maniera sicura e rese disponibili solo a chi ha realmente stampato il documento. L'identificazione dell'utente e il rilascio sicuro di un documento può essere effettuata anche tramite applicazione mobile.